musica mi piacerebbe finire il concetto con questa piccola canzone Kawashiko e se come una canzone ironica chi parla di gente che portano le armi a me piace cominciare la canzone come una piccola azione militare nella nostra lingua dico iurischi, la parola che dicono soldati da noi i vostri soldati dicono all'attacco, allora facciamo un piccolo all'attacco per scherzo nazionale, allora sarebbe una segnale trompa uno, due, tre, quattro, voi all'attacco, ok? va forte, ok, trompa! uno, due, quattro! 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 Scusi, vanno, vanno, vanno! Scusi, vanno, 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 vanno! Scusi, vanno, 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 vanno! Scusi, vanno, 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.